Cari eurodeputati ed eccellenze, in un momento di straordinario aumento delle temperature è importante prendere una decisione altrettanto straordinaria. Ci sono divisioni, criticità, problemi. Dobbiamo noi dimostrare che siamo uniti, coesi di fronte a questa grossa sfida. Questa è la nostra opportunità di andare verso un futuro più equo, più giusto e più sicuro per la terra in modo che essa stessa sia più sana e più sicura. Accogliamo l'opportunità, accogliamo l'opportunità del momento e dobbiamo essere, essendo fedeli allo spirito e ai valori delle nostre organizzazioni. Ministri, eurodeputati ed eccellenze, come forse già saprete, il mio mandato come segretario generale finisce quest'anno, alla fine di quest'anno. Finirò appunto il mio decennio di segretario generale. È stato per me un grande onore, per me, servire questa importantissima organizzazione mondiale e collaborare strettamente con l'UE e con l'Europarlamento. Quindi colgo l'opportunità per esprimervi tutta la mia gratitudine per tutto il sostegno profondo che mi avete sempre dimostrato alla mia persona e alle Nazioni Unite negli ultimi dieci anni. Io spero sinceramente che l'UE continuerà ad essere alla guida alla guida di questo lavoro per ridurre le emissioni, tutelare i diritti dell'uomo e per avere in genere un mondo più sostenibile. Grazie per il vostro ruolo e per il vostro impegno. Lavoriamo tutti insieme per costruire un mondo migliore per tutti noi. Grazie a voi per il vostro ruolo guida. Grazie.